salve a tutti e bentornati in minecraft come ho detto nel scorso episodio saremo tornati in minecraft soltanto con la 1.11 e infatti oggi siamo nella 1.11 allora questa versione ha un po di cose nuove alcune che probabilmente a molte persone non interessano alcune che a me non interessano ed altre cose che sono assolutamente rivoluzionari per questo gioco perché le shulker box che con molte persone chiamano zaini però una cosa molto sbagliata le shulker box gli observer block e soprattutto il fatto che siano tornati gli item elevator mi rende una persona molto molto felice penso che visto che in questo episodio appunto una delle uno degli aggiornamenti più importanti sia appunto quello degli elevator secondo me dovremmo andare a vedere queste nuove cose e poi successivamente rimettere a posto alcune delle fam che ormai sono rotte perché effettivamente sia la forgia sia l'ender farm sia la gold farm e per il momento mi viene in mente altro sono rotte semplicemente perché gli item elevator non funzionano quindi quella sarà una delle cose più importanti che dovremmo fare ora però andiamo nel land perché per aiutarci in questi progetti qua avere le shulker box sarà una cosa molto importante ok siamo appena abbiamo appena raggiunto una di queste torri qua finalmente perché da un pochino che sto cercando ora leviamoci questa e mettiamoci la nostra armatura per bene perché sennò ci apriranno leggermente il culo e adesso dovremmo uccidere un bel po di shalker in modo da avere un sacco di shalker shell se non sbaglio le hanno chiamate così e appunto con le shalker shell poi potremmo fare le shalker box con le shalker box poi potremmo riempirci un'intera ender chest e potremmo portarci dietro praticamente un intero storage di oggetti in una cesta sola il che è una figata pazzesca e non mi ha dato niente ma come ma dai dammi qualcosa devo dimostrare che date qualcosa da nazione ok adesso mi ha dato una shalker shell vuol dire che prima avevo tanto sfighe e non me l'hanno data proprio quando dovevo dimostrare cosa stavo facendo ottimo va bene sono appena trovato nostro viaggio nel land e questo è l'incirca il nostro risultato potrebbe sembrare strano ma ho selezionato alcune cose da mostrarvi ho trovato cinque fortezze con le lightra quindi 5 lightra e 5 dragon head però ho trovato molte altre fortezze in realtà tipo 10 11 non esplorate ci ho messo un bel po comunque perché mi serviva appunto un sacco di shalker shell ne ho due stack e 11 e tra l'altro qua c'è appunto una chest plate perché adesso ci sono le curses e non più gli enchantment ovvero la curse of binding questo è uno dei varie armature di diamante che ho trovato e semplicemente questa qua se non sbaglio se te la metti non te la puoi più levare quindi è un grosso problema ora prima di tutto legna la bursh non mi serve quindi possiamo utilizzarla voglio un sacco di shalker box posso staccare le shalker box momento della verità le shalker box si staccano no mi sono rovinato l'inventario ottimo ok come faccio adesso allora ho organizzato un pochino l'enter chest con appunto le nuove shalker box come vedete non cura finita di fare tutto perché soltanto alcune di queste shalker box sono deciso ho deciso come farle quindi ad esempio la tools è un pochino di oggetti a caso che tendenzialmente tenevano nella ender chest prima poi tutto il resto che so che ne so è redstone wood minerali cose che comunque sono molto spesso utili adesso invece come ho detto prima ci troviamo nella gold farm semplicemente perché ci sono un pochino di cose che non vanno più bene ormai con le nuove versioni con un pochino i cambiamenti ormai questa zona qua o cavolo questa zona qua non funziona più molto bene quindi dobbiamo un pochino ricostruirla ho visto che praticamente ci sono alcuni problemi con gli spawn penso che dovremmo un pochino allargare la zona sicuramente la redstone qua sotto è assolutamente rotta quindi dovremmo per forza rifarla e pensi un progetto leggermente grande quindi mi concentrò per bene cercherò di farlo tutto in una botta sola perché sennò questo episodio diventerà troppo lungo e non uscirà mai quindi probabilmente adesso metto a lavorare perché tra l'altro sono delle nuove meccaniche molto interessanti quindi c'è voluto relativamente una buona quantità di tempo ma finalmente sono riuscito a rifare la farm da qui potrebbe sembrare tutto abbastanza normale ma la cosa importante è il fatto che adesso funziona di nuovo infatti questo successo qua sono completamente piene di roba e che mi rende felicissimo inizialmente ho avuto alcuni problemi perché in creativa effettivamente non funzionava semplicemente risultati dei problemi con dei chunk ma adesso sono molto felice perché funziona qua tra l'altro c'è un meccanismo per metterla in funzione o spegnerla perché causa molto lag quindi possiamo pure considerare questa cosa qua però per il resto è abbastanza senza alcun problema mi aspettavo che fosse un pochino più semplice ricostruirla ma effettivamente ci è voluto una buona quantità di tempo come vedete il cerco qua attorno è molto più largo ci sono ben quattro punti in cui i pigmen possono cadere e tra l'altro ci sono un bel po' di redstone qua sotto che per il momento non vi mostrerò dalle varie cose oppure ricostruito un pochino esteticamente il posto perché prima non mi piaceva da qui non potete vederlo bene ma dopo vi mostrerò per bene di cosa si tratta quindi non vi preoccupate di quello per il momento vi assicuro soltanto che funziona e boh penso che adesso che praticamente abbiamo pure messo a posto questa farm qua potremmo passare un altro progetto quale altre cose sono state aggiunte nella 1.11 di interessanti beh c'è l'item elevato che sono stati messi a posto quindi penso che sia una buona idea ritornare un po' giro ovunque e rimettere a posto tutti gli item elevato perché ci sono tantissime cose rotte in questo momento quindi ora siamo passati all'enderman farm questa fam che effettivamente non mostravo nei video da un bel po' di tempo semplicemente perché e l'ho costruita una volta non c'è motivo di mostrarla ogni due secondi ma quindi l'unico problema di questa fam qua è che le temele vetro non funzionava più per resto funziona incredibilmente bene come vedete e quindi ho rimesso a posto le temele vetro adesso siamo di nuovo pieni di enderpearl fino a livelli assurdi e quindi non c'è alcun problema per tutto il resto gli enderman sembra funzionino ancora senza alcun problema ci sono qualche glitch grafico qua ma per il resto non è niente di che possiamo pure prendere un pochino di TNT per fare una dimostrazione del tutto che funziona ancora purtroppo credo che l'effetto della spada e con fortuna non funzioni più ormai semplicemente perché è stato fissato come bug perché effettivamente era un bug il looting non può passare ad altre uccisioni che non siano della spada ma per il resto va tutto per bene quindi visto che siamo nel land possiamo passare di nuovo dal portale e tornare in altre zone della base in cui effettivamente abbiamo utilizzato molti temele vetro se c'è una costruzione di cui sentivo assolutamente la mancanza quella è la forgia effettivamente qua utilizzavo pure più di un item ele vetro quindi oh cavolo ho dovuto a cambiarne più di uno effettivamente però per il resto come solo come già detto prima sono dei fix molto semplici il design tra l'altro è assolutamente una cagata basta semplicemente che era un timer che si attiva quando c'è dei oggetti dentro il dropper quindi è una cosa che non c'è neanche motivo di mostrarvi però adesso finalmente funziona di nuovo potrò ricominciare a cuocere le cose senza preoccuparmi di dover cambiare oggetti spostare fornaci mettere dentro coal e create simili ma per il resto è ancora molto semplice probabilmente in futuro creò dei cambiamenti a questa fa a questa costruzione qua semplicemente perché vi facerebbe pure utilizzare mi piacerebbe pure iniziare utilizzare le blades per cuocere le cose ma per il resto penso funzioni incredibilmente bene Vi ricordate quando ho fatto la fam di patate e carote in cui dicevo e io ho trovato questo item ele vetro che funziona bene quindi potremmo utilizzare questo Bene ci ha messo davvero molto poco a rompersi Effettivamente non è rotto come design ma semplicemente chiede un po di manutenzione e non mi piace fare manutenzione adesso invece ho ricambiato entrambi gli item ele vetro che utilizzavamo e Vi mostro come funziona la farm funziona fin troppo bene probabilmente dovremmo pure creare un sistema per svuotare tutte queste gesti qua prima o poi semplicemente perché Probabilmente cominciamo a bloccare l'intero sistema e potrei cominciare a causare problemi tra l'altro poi voglio ricostruire questa stanza qua perché Effettivamente non mi piace per niente quindi se una delle cose che dovrei fare un futuro ma tra le altre cose che avevo detto che avrei dovuto cambiare in futuro E' appunto la farm di scheletri e di ragni che avevo costruito nell'episodio 21 Immagino che si 22 20 Accidenti non molto tempo fa abbiamo appunto costruito la farm di scheletri e ragni ed effettivamente Li uccidevamo avevo creato tutto quello necessario a farla funzionare ma effettivamente non c'è un modo per raccogliere oggetti dovevo passato verso Un muro scendere di sotto trovare delle cestine messe da parte ed era incredibilmente scomodo invece adesso ho messo appunto Qua un item ele vetro che porta gli oggetti dentro la chest ho fatto pure un po di afk ed effettivamente Devo trovare un modo per aumentare gli storage dello spazio dei oggetti perché non c'è assolutamente alcun modo per Per tenere da parte so che ci sono di nuovi design utilizzando le shocker box ovvero Prendi una shocker box a riempi di oggetti per poi prende quella shocker box Spaccarla metterla dentro un Appunto una cesta perché appunto la cesta può contenere questo numero qua di shocker box ogni shocker box può contenere lo stesso numero di La cesta è una cosa che è un po confusa ed è che mi deve un pochino informare perché effettivamente non so bene come funzioni Però ehi finalmente tutto funziona senza alcun problema ma quindi mentre vi mostro l'aspetto della gold fan visto che prima con il personaggio in survival Non vi potevo mostrare posso dire che anche questo progetto è completato so che potrebbe essere sembrato un episodio Leggermente con meno contenuti rispetto al solito ma stranamente potrebbe non sembrarvi ma la fama in realtà è cambiata davvero molto La base sotto è addirittura dovuta allargare di un blocco in ogni direzione semplicemente per motivi di simmetria Quindi praticamente significa ricostruire metà se non tre quarti della costruzione intera poi dovuto allargare il cerchio ho dovuto fare il design ovviamente La parte superiore ma comunque chiede molto tempo per queste cose qua La farm adesso funziona benissimo che mi rende felicissimo e anche tutte le altre che ho rimesso a posto sono molto felice del loro risultato Devo ancora ovviamente fare il tunnel per collegare la farm di ragni e scheletri fino alla nostra base ma effettivamente non volevo Rascare questa cosa qua semplicemente perché non ho ancora trovato un design che mi piace e quindi per il momento preferisco evitare Ma quindi spero che la farm vi piaccia finalmente lo posso mostrare in un modo normale perché con il personaggio pieno non avete visto niente E ci è voluto un bel po' di tempo Ma quindi per questo episodio è tutto come vi ho promesso questo episodio sarebbe stato appunto sulla 1.11 Effettivamente non vi ho mostrato molte cose della 1.11 ma per quello che faccio io e per quello che mi interessa a me riguardo a questo aggiornamento Quello che vi ho mostrato è effettivamente tutto quello che era rilevante per la mia serie Effettivamente non ho mostrato tutte le nuove costruzioni che troviamo appunto nelle Roofed Forest Non ho mostrato il Totem of Undyne, non ho mostrato il Lama Che tra l'altro perché hanno giunto il Lama? Ma semplicemente perché sono cose che effettivamente non mi interessano molto Spero che comunque le cose che vi ho mostrato in questo video mi possano essere piaciute Tra l'altro il design della farm questo qua se non sbaglio l'ho visto in precedenza da Xuma Void, è Xuma Void come cavolo si chiama Che in precedenza invece l'ha visto da Snow Crash Quindi lui ha fatto un redesign di questo design qua E io poi in realtà l'ho fatto anche un redesign perché ci sono alcune cose che non mi piaceranno del suo design Quindi è un po' un casino Quello che vedete adesso è la mia versione in poche parole Tra l'altro il prossimo episodio sarà appunto su quella cosa che avevo annunciato Non so se chiamalo come episodio speciale o semplicemente un normale episodio della serie Questa cosa deve ancora decidere Ma il prossimo episodio successivo mi piacerebbe lasciarvi appunto nella infobox qua in alto Un piccolo stroppol di quello che potremmo fare Sono appunto indeciso tra una costruzione completamente basata semplicemente sull'estetica Senza Redson e cose simili Oppure un Nether Hub Oppure lasciatemi voi qualcosa nei commenti Sono molto indeciso su cosa fare nel prossimo episodio Ma quindi per questo episodio è tutto Spero che vi abbia piaciuto Spero di venire nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti